E anche dall'attitante Giuseppe Romeo riusciva a gestire il traffico internazionale di cocaina nelle mani dell'Andrangheta. E uno dei broker dell'Andrangheta era lui a spostare centinaia di chili di cocaina dal nord Europa sino a Milano. Giuseppe Romeo, classe 1986, originario di San Luca, provincia di Reggio Calabria, conosciuto con i soprannomi di Unanu e Maluferru, era riuscito a sfuggire all'operazione European Andrangheta Connection del dicembre di tre anni fa. Dall'attitante si era nascosto a Barcellona in Spagna, ora è stato arrestato dalla Guardia Civil, dopo che gli investigatori italiani del servizio centrale operativo erano riusciti a intercettare alcune sue telefonate. Gli uomini dello SCO hanno fornito ai colleghi spagnoli alcuni elementi importanti sulla presenza nella perisola iberica del boss di San Luca. Le indagini che hanno portato all'arresto di Romeo, inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi, stilato dal Ministero dell'Interno, rappresenta un duro colpo al traffico in tutto il mondo di stupefacenti, gestito dall'Andrangheta. Nel novembre scorso il trafficante è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria a vent'anni di reclusione per partecipazione con ruolo di rilievo a un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale.